Sto bene, ho fatto un po' di vacanza, adesso mi sto allenando per arrivare pronto per Raduno e sono molto carico per questa nuova stagione, mi sembra che la squadra sia molto valida e quindi non vedo l'ora di vencerla. Non ci ho mai lavorato assieme, però ci ho giocato spesso contro, penso sia un allenatore che dà un'identità ben precisa e forte alla squadra che ha, che penso sia quello che abbiamo bisogno. Speriamo di fare un buon lavoro, di partire carichi, abbiamo bisogno di ribaltare l'annata diciamo sfortunata e deludente l'anno scorso, quindi siamo tutti molto motivati a partire da quelli che sono rimasti, a partire sicuramente da quelli che verranno per fare una stagione vincente. Invito tutti i nostri tifosi a sostenerci e a darci una mano per questo cammino di quest'anno e dovremmo essere noi bravi a trascinarli, però sono sicuro che ce la metteremo tutta e di provare insieme a loro a toglierci grandi soddisfazioni. Grazie per la visione!